Ritorna l'appuntamento con la Sagra del Pistacchio insieme a noi il Sindaco, il Senatore Pino Firrarello. Doppio appuntamento quest'anno per la Sagra del Pistacchio? Sì, iniziamo giorno 28 di questo mese, andiamo avanti fino alla domenica successiva, mi sembra giorno 30 per riprendere il venerdì della settimana dopo con la giornata dedicata alla scuola e dopo una bella conclusione tra il sabato e la domenica anche perché i miei uffici sostengono che tutto sommato le spese sono pressoché uguali e di conseguenza diamo la possibilità a tante persone che amano ormai la Sagra, che sono interessate a visitare anche Bronde, non dimentichiamolo che Bronde probabilmente ha una delle più belle pinacoteche della Sicilia, questo lo dice Sgarbi, non lo dico io che non sono un esperto, pertanto dare la possibilità a tante persone di poter essere presente sul nostro territorio, scoprire quando c'è di bello, io credo che è un fatto molto importante. Per quanto riguarda la Sagra in sé, io mi accorgo che gli imprenditori, tutti gli operatori del settore ogni anno si migliorano, fanno delle offerte sicuramente molto competitive, hanno raffinato ancora di più tutto un sistema culinario dolciario che fa sicuramente della gastronomia un fiore all'occhiello della città di Bronde e della Sagra del Pistacchio.